Si sono concluse le celebrazioni del 25 aprile di quest'anno 2021 che non sono state troppo diverse da quelle del 2020 per una serie di limitazioni che sono state comunicate a tutti i sindaci. Ho ovviamente obbedito a questa indicazione ma non per questo ho condiviso il fatto che si possa limitare una celebrazione così importante per tutta l'Italia di fronte a autorità civili e militari. Credo che si casca molto spesso in contraddizioni soprattutto rispetto al fatto che l'emergenza sanitaria si può condizionare la nostra vita ma non può limitare alcune facoltà direi anche democratiche che ogni amministrazione comunale e ogni cittadino può esercitare.